Allora, videopillola velocissimamente, commento sulla dichiarazione del mascherone per quanto riguarda quell'unica sentenza della Cassazione, scusate che stanno passando un manipolo di minchioni correnti urlanti, scusate. Bene, gli scassaminchia urlanti correnti sono passati, veniamo e torniamo a noi. Stavo dicendo, in base a quello che diceva Wallace nel video che ho citato nel video prima di questo, riguardo al discorso del doparsi non è reato, Wallace diceva una stupidaggine enorme e cioè non fate caso al testo, a una sola sentenza di un giudice isolato, comunque sarete indagati. Sì, è vero, ma vorrei ricordare che sono le uniche sentenze che fanno legge, che creano un precedente per il quale poi tutti bene o male si devono adeguare e porto un esempio. Ricordate il caso Bosman, ha cambiato la storia del calcio, quel calciatore che è andato a denunciare la situazione per la quale una volta gli estracomunitari nelle squadre di calcio era permesso giocare solo a tre extracomunitari per ogni squadra di calcio, cioè potevano starci solo dentro tre extracomunitari. Questo ha portato in tribunale la questione, ha denunciato tutta la minata, il giudice gli ha dato ragione per la discriminazione, per tutta una serie di menate e da quella sentenza è cambiata la storia del calcio. Quella è una sentenza e ha fatto una storia delle sentenze. Quindi il signor Wallace, come alcuni poliziotti che sono magari bravi a fare i poliziotti, ma con la legge proprio non devono parlare. Molte volte il cittadino ne sa più di loro, perché il giudice è una cosa e il poliziotto ex, nel suo caso poliziotto è un'altra. Senza nulla togliere ai nostri amici delle forze dell'ordine ci mancherebbe. E' lui che parla sempre a sproposito con i suoi deliri di onipotenza che ormai conosciamo tutti. E' la singola sentenza in Cassazione che fa la storia della legge, che fa la storia di tutte le situazioni che si creano. Ripeto, ricordate il caso Bosman. You know! Ciao!